ah raga buongiorno oggi siamo qua su black ops 2 che cavolo di novità e beh siamo così ragazzi perché allora beh intanto voglio dirvi che riuscite a portare l'MSMC diciamo all'oro come potete vedere appunto e sto giocando all'MSMC Reflex e non so qualcos'altro l'avevo messo adesso cominciamo a crepare guarda questo come sta giocando si mette lì a cantare vabbè ci mettiamo tutti lì allora che è un'altra infiltrazione vuoi dire se mi ammazzano pure di nuovo eh allora stai vedete che qua c'è va che vigliacchi va che vigliacchi si buttano pure una infiltrazione tattica qua c'è sta qualcuno sicuro come la merda guarda 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 in due a due a due vanno è possibile a due? che fa a giocare a due? guarda l'altro dietro in due in due? è incredibile che cambia manco il sicuro che c'è il gecchino questo ecco l'altro mamma mia che mi uccideva però non è una buona partita eh ok vediamo il drone che mi fa il drone che mi fa una buona partita perchè sennò eh 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 no 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 di sopra sopra la casa me li ha mandati a due a due come sempre vanno in giro in due questi ma adesso ma adesso non si ammazza tutte e due no godo come guardalo guardalo assist assist certo perché non dovrebbe darmi l'assist seguiamolo dai vediamo guarda cosa sta facendo col paciere col paciere certo perché 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 meglio di così per me becco pure questo allora vediamo fantastico Allora, vediamo se è... Oh, sono arrivati, che mi ha dato? Una cosa tipo Cerberus non me la potevi mandare, vero? No, è troppo difficile mandarmi il Cerberus, vabbè ragazzi, comunque questa mappa mi piace veramente tanto perché è una cosa che serve veramente a tutti, ecco, guarda, guarda lo piavigliacco, tranquillamente, con il suo DSR e giustamente cosa vuoi che faccio? Intanto però con l'invitazione tattica, sono arrivato da dietro lì e ho fatto una buona partita. No, la scossa elettrica non me la puoi fare. Guarda, un'altra, un'altra, come giochi tu? Metti scossa elettrica in tutte le parti. Quello di serio? Si butta fuori la pacca 45, mi ammazza. Come giochi? Abbiamo questo, abbiamo questo che cosa fa. Non può essere qua dietro. Non può essere qua dietro, in due poi. Soddivisi, soddivisi. Marche. Buono. Fai vedere l'altro. Fa vedere l'altro dov'è? Vedere che c'è, se c'è ancora le scosse qui qua. Ok, vai colpiti tu. Vediamo colpiti tu che si riesce a fare. No! No, 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 no. Ok, eh, volevi tu, eh. L'izzo che non sei altro. Un po' di bigliaccheria. Ok. Guardalo. C'è pure l'altro. Mi sa che l'hanno già ucciso, però. Qua di sicuro c'è qualcuno, guarda. Eee, eccolo. Lo sapevo io che c'è stato qualcuno qua. Vediamo, vedete. Allora, vediamo. Cosa è? Come fai? In due, in due. Vabbè che c'è pure l'M27 oro, eh. Vabbè, non è, non tutti qua. Sono un'arma oltre. Come giochi? Come giochi? È impossibile giocare con questi. Figlia della stai MSMC. È impossibile. È infattibile giocare con questi. Dove spunti? Dal cielo, tu cadi, mi spawni davanti e poi mi uccidi. Beh, guarda che partita, eh. Bellissima. Beh, ora te ne trovo un altro, guarda. Ma fa scherare questo gioco, vuoi. Viagliadro. Sì, ma tanto fa schifo. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Mission almost complete. Don't quit now. Sì, ma tanto fa schifo. Sì, ma tanto fa schifo. Non si è più io pure questo. Ah! Ah! Col cecchino. Cos'è? Che arma è? Si può andare in giro così? No, 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 no. No, 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 no! Non può non morire dopo gli headshot che gli ho fatto dopo l'R27. Poi la granata, ce n'erano 500 lì, non l'ha manco piccato uno. Cioè, mi puoi spiegare come cavolo ha fatto? Oh, è finito. Andiamo con questa decisione. Stata una dura partita, però è stata abbastanza buona. Comunque, ragazzi, per oggi è tutto. Quindi, se questo vi piace, lasciate un like, commentate. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Bella, ragazzi. Ciao!